Le previsioni meteo vengono rispettate e la città del sole è costretta dalla pioggia a presentare i suoi candidati al chiuso del centro Immacolata Concezione. È direttamente il candidato a sindaco, Caetano Sollazzo, nel giorno della finale di Coppa Italia di Calcio, a presentare la sua squadra. Una squadra, dice talmente forte, che potrebbe partecipare ai prossimi mondiali di calcio. Sollazzo tesse delle lodi dei suoi compagni di viaggio, soffermandosi sul ritorno di Franco Le Rose e sull'apporto dei professionisti, tra cui quattro medici, una psicologa, una laureata in economia e commercio e un giovane ingegnere. L'assessore uscente Franco Maiolino, uno dei medici in lista, riprende la metafora calcistica, ricordando con orgoglio le elezioni al Parlamento dell'ex sindaco Ernesto Magorno. Siamo una squadra che ha dato al suo capitano la possibilità di vestire la maglia da nazionale. Ripartiamo con orgoglio e vigore con un candidato a sindaco che garantisce coesione, equilibrio e affidabilità. Il programma, dice Maiolino, si svolgerà in continuità con l'azione dei passati sette anni, ma ci sono quattro emergenze. Una di queste è sotto gli occhi di tutte, dice l'assessore uscente, che aveva invitato tutti i candidati ad una tregua sul porto in campagna elettorale. Non è un caso che la parola non venga di fatto pronunciata, mentre viene annunciato un vertice con il prefetto per martedì. Esordio poi per Francesca Casella, sorella del consigliere uscente Mariano, che si è soffermata sulle quote rosa, un concetto definito discriminante, non è attraverso l'imposizione legislativa che si affermano le pari opportunità. Citando Renzi e Maria Montessori, Casella ha parlato dell'importanza dell'educazione scolastica e dell'istruzione, definendosi una volontaria della politica. Le donne, ha detto, possono dare il valore aggiunto perché sono il perno della società. Marcello Pascale, candidato a sindaco un anno e mezzo fa, con la lista cambiamenti proprio contro la lista del sole, ha spiegato la sua scelta di passare con gli ex avversari sulla scorta del rinnovamento nella continuità. Sette tredicesimi dei candidati non hanno mai amministrato in maggioranza, ha detto Pascale, ma non possiamo fare a meno dell'esperienza di chi l'ha maturata sul campo. Pascale poi ha elogiato la disponibilità al dialogo di Sollazzo e la sua forza di mettere in discussione le proprie idee per il progetto. Il candidato a sindaco ha chiuso poi l'incontro, ribadendo il valore della sua investitura a capolista, voluta da Ernesto Magorno per porre fine alla divisione tra Diamante e Cirella. Se gli elettori lo vorranno, continueremo a garantire a questa città stabilità e continuità nel rispetto dei principi dell'etica e della legalità e con una grande attenzione alle fasce deboli. Grazie a tutti.